La signora che ha fatto la pipì o la cacca in piazza Garibaldi, live nelle sue operazioni, la signora cattona di Corsa Vittorio Emanuele, la signora abita in Via Libertà, dai, ecco, allora finché voi butterete capi di abbigliamento nella spazzatura, sappiamo bene che ci saranno sempre extracomunitari e rom che andranno a rovistare dentro, eppure esistono tanti cassonetti per gli indumenti, però voi non so perché li buttate all'interno dei cassonetti, poi vanno in giro con questi carrozzelli, caricano, rovistano, buttano per terra, la colpa quindi è nostra, è vostra, beh, salutate la signora, ciao signora,